Musica Bentornati, buona serata, benvenuti all'Odice la Iena. Oggi parleremo ovviamente di animali e ovviamente di quello che andrebbe eliminato, di quello che andrebbe evitato. Siamo in Italia, l'Italia è famosissima a livello mondiale per la moda e di quello parleremo, di quello che succede a determinati animali per colpa di una moda che va avanti con tradizioni arcaiche. Ne parleremo con Patrizia Re, referente italiana di Pita. Ciao Patrizia, benvenuta. Ciao Alessandra, buongiorno a tutti. Come preambolo sappiamo Pita, e adesso Patrizia ci parlerà delle loro azioni, in cosa si sono distinti in questi anni. Ha fatto la storia dell'animalismo, a livello soprattutto giusto. Di cosa si occupa in particolare? Beh, allora Pita ha i diritti naturalmente di stabilire, promuovere e difendere i diritti degli animali, di tutti gli animali, ecco questo è importante. Quindi viene anche appunto segnalato sui siti nella nostra comunicazione, a partire dai topi, ma anche da quelli che vengono ritenuti, vengono definiti animali nocivi o infestanti. Per noi non esistono, per Pita non esistono animali comunque di classe A, di classe B o C fino ad arrivare alla Z, sono comunque vite e degne di essere vissute. E soprattutto appunto sono, cioè sono, tutti gli animali soffrono, tutti gli animali provano appunto emozioni. Questa dovrebbe essere la base proprio. Dovrebbe essere la base, quindi l'assunto è se io non, se noi umani, se io essere umano non voglio, desidero la felicità, desidero la libertà e desidero soprattutto e cerco la vita, vado incontro alla vita, non voglio soffrire. Evito la sofferenza perché devo incuterla e devo diciamo promuoverla sugli animali, questo dovrebbe essere. Pita dice, gli animali non sono quindi, non sono nostri per essere usati, sfruttati in vari settori, in varie industrie, quindi dappertutto in pratica, nell'allevamento, con l'alimentazione, nella moda, nell'industria dell'intrattenimento e per essere usati nella sperimentazione, sperimentazione animale naturalmente che è tutto un altro, ahimè, terribile capitolo. Terribile capitolo. E in nessun altro modo, quindi non è che quello che non viene contemplato in queste quattro aree vada bene, in nessun altro modo. Noi possiamo subito capire in pratica che intrattenimento, alimentazione, moda, sperimentazione, quanto è quindi endemica, profonda, vasta e interrelata, intrecciata praticamente, tutte queste attività sono intrecciate una con l'altra, quindi quanto complesso è il lavoro di organizzazioni come la nostra, come Pita, di tutti quelli che si occupano di difesa e diritti degli animali, diciamo promuovere questa attività. Sì, anche perché sono tutte, a parte, beh anche la sperimentazione animale, perché la gente poi compra prodotti, eccetera, ma sono tutte attività, quelle che hai citato, fortemente correlate alle nostre abitudini più che alla nostra cultura, perché molto spesso le persone, e adesso questo non è più giustificabile, non ci pensano, fanno una cosa perché la fanno gli altri, perché sono abituati così, immagini una certa maniera, ti compri il giacone col collo di pelliccia o di pelle, senza pensare che era addosso a qualcuno. Esatto, che apparteneva appunto all'animale, che la pelle, la pelliccia e tutti questi materi vengono definiti, che una volta che, diciamo, non sono più, non appretengono più, ahimè, all'animale, ma diventano dei materiali, diventano dei materiali, nei cosiddetti, di origine animale. Però lì c'è una vita, c'era una vita, c'era un corpo, c'era appunto un animale che, voglio dire, aveva dignitoso e aveva diritto di vivere. Adesso a Milano, per esempio, Pita, tra l'altro con cui ho avuto l'onore di partecipare, ha fatto un'azione dimostrativa all'inizio della settimana della moda, perché Milano è la capitale della moda, motivo per cui viene scelta per dare importantissimi input sociali. E abbiamo parlato degli animali esotici, nel caso specifico dei serpenti, che ahimè, come anche ci siamo dette ieri, parlando tra di noi, sono animali che la gente considera un po' come se non soffrissero serpenti, coccodrilli. Invece, cosa gli succede? Cosa avete? Perché Pita ha fatto delle grandissime, proprio oltre a tutto il resto, investigazioni riguardante il mercato che c'è dietro questi animali esotici. Assolutamente, sì, 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 l'exotic skin trade, no? Viene definito. Volevo dire che, oltre al fatto che magari pensano che la gente in generale pensa che non soffrano questi animali, ma comunque, quello che è importante, anche non dobbiamo necessariamente amare una specie animale per sentirsi vicino, per capire o per sapere che soffrono, o comunque che non è un nostro diritto, cioè utilizzarli, abusarli, ucciderli. Per cui i serpenti possono piacere o meno, ma hanno lo stesso diritto, sono comunque abitanti di questo pianeta. Anche perché qui apro e chiudo una parentesi che mi sta molto a cuore, dando diritto di vivere a chi è simpatico, si aprono scenari orrendi che hanno portato avanti nell'uccisione di popolazioni, etnie e via discorrendo. Quindi è una cosa gravissima questo tipo di pensiero. Assolutamente. Cosa accade? Le pelli, diciamo, le cosiddette pelle esotiche, che sono principalmente quelle di cocodrillo, alligatore, vari tipi di serpenti. In particolar modo alcune delle nostre indagini si focalizzano su... Tra l'altro volevo avvertire il pubblico che adesso andremo a proiettare delle immagini veramente cruente, ma vere. È giusto che vengano viste, perché la scelta deve essere critica quando uno va a comprare qualcosa o non comprarla. Assolutamente. È importante. Queste sono attività che, come dire, c'è un dispendio di tempo, di energie e di risorse per fare, per portare a termine queste attività, indagini investigative in varie parti del mondo. Noi possiamo farlo soprattutto grazie all'aiuto, al supporto di molti supporter, di molti soci, molte persone, amici di Pita, che ha diversi membri nel mondo, milioni di membri. Grazie anche alla loro spinta, noi riusciamo a portare avanti queste cose. Quindi è un conubio molto importante che ci tengo a sottolineare. Quindi è importante che le persone si informino, che le persone, appunto, dicevi giustamente, queste sono immagini cruente, però accadono. Diciamo appunto quello che avviene nei sottotitoli. C'era proprio scritto, ma questo serpente è ancora vivo. Quello che si vede fatto agli animali, viene fatto ad animali completamente coscienti, che provano dolore, che sono vive. Vivi esattamente come adesso lo sono io, lo sei tu. Sì, e soprattutto, e inoltre, anche adesso lo spieghiamo, inoltre, dicevo, per diventare oggetti di vanità. Oggetti, se permettetemi il termine, inutili. Certo. Cioè il portafoglio di pelle di serpente, la borsetta di pelle di coccodrillo. Quanti coccodrilli ci sono in una borsetta? Ad esempio nella famosa Birkin di Hermès, che ahimè è un grande utilizzatore, un brand che è un grande utilizzatore di pelli di vario genere esotiche, tra cui appunto quella di coccodrilli, e possiede diversi allevamenti di coccodrilli, ne andremo a parlare, richiede l'uso di 3-4 coccodrilli. Per una borsetta così, tra l'altro. Per una borsetta così, che tra l'altro è sul mercato, sono oggetti, vengono considerati, di altissimo lusso, ahimè c'è tutto questo aspetto poi da considerare, che è appunto sul mercato per circa 300 mila euro. Quindi cosa succede? Che per alcune persone, fortunatamente sempre meno, occorre questo dirlo, per alcune persone è un oggetto status symbol. Cioè senza pensare, senza sapere, probabilmente ci auguriamo, non sanno in realtà che cosa c'è dietro. Quindi queste, torniamo al discorso appunto delle immagini e dei risultati delle indagini, è molto importante in realtà condividerle, PETA fa questo, e non solo con il pubblico, ma con vari organi istituzionali, politici e con le aziende di moda. Uno dei miei compiti è proprio quello di dialogare con appunto le aziende di moda, con i decision maker delle aziende di moda italiane, come dicevi te, è uno comunque dei driver, è un settore trainante dell'economia italiana, portando praticamente, portando loro, facendo vedere e portando diciamo a galla quello che appunto accade. Non è detto, anche se si occupano appunto le aziende di moda, dovrebbero sapere da dove arrivano i loro materiali, ma insomma non è sempre detto. E quindi parlavamo di serpenti, ad esempio questi risultati di queste indagini sono, e nel caso specifico appunto degli animali esotici, arrivano da vari paesi, varie zone dell'Asia. Quello che abbiamo visto prima, probabilmente che stiamo vedendo ancora adesso, i serpenti, i pitoni vengono diciamo colpiti diverse volte, non c'è solo crudeltà, diciamo sono torture vere e proprie, quelle che vengono inflitte a questi animali. Vengono colpiti con i martelli, per essere diciamo tramortiti, fermati e inchiodati, quindi con un chiodo alla testa, inchiodati questo più o meno, quello che abbiamo anche noi diciamo messo in scena in piazza del Duomo appunto, inchiodati ad un palo di legno, e poi viene chiuso la loro diciamo la loro bocca e la zona appunto dell'ano dell'intestino, viene praticato un foro, e poi a seconda dei posti dove da quel foro viene passata, viene sparata dentro all'animale, ancora vivo, acqua, viene pompata acqua, e chiaramente loro sono coscienti in questo momento, oppure in altri allevamenti viene appunto sparata con un compressore ad aria dell'aria, fino a che muoiono soffocati. Questo perché viene fatto? Viene fatto perché, per strecciare, per allungare, per distendere la loro pelle, per far gonfiare i loro corpi, affinché sia più semplice poi per l'operatore, queste persone, insomma, per l'operatore, spellarli, scuoiarli, diciamo, da tutto questo mentre sono ancora vivi, e sono coscienti, o in stato di semicoscienza. Quindi è... Orribile. È orribile, moralmente inaccettabile, è moralmente inaccettabile, peraltro appunto per diventare poi questi oggetti che vengono ancora considerati, ripeto, sempre meno, fortunatamente, però oggetti, voglio dire, di status symbol, oggetti, diciamo, di lusso. Ecco. I coccodrilli? I coccodrilli. Anche perché anche, mi ricordo, anche appunto sui serpenti, i coccodrilli, avevo letto appunto dalle vostre investigazioni, che tra l'altro anche il metodo di allevamento è pazzesco, cioè vengono tenuti in vasche putrescenti, ecco, c'è. Non c'è, praticamente conducono una vita che non è una non vita, uno stato, diciamo, a metà tra... In realtà sono ancora vivi, sono vivi vegeti, però sono prigionieri, sono prigionieri in piccoli spazi, in vasche di cemento sporche, anguste, oppure anche in gabbie, a contatto, sono animali naturalmente che in natura viaggerebbero molto, nuotano per diversi chilometri al giorno e non solo, non sono, nel caso del coccodrillo, a meno che appunto non sia una mamma coccodrillo, ma non sono animali che vivono insieme, in società, quindi molto ammassati, mentre qui si trovano ammassati uno vicino all'altro ed è per questo che li devono comunque magari tenere in queste gabbie distanziate, dove non riescono praticamente a muoversi, quindi è una crudeltà assoluta, tra l'altro sono animali appunto selvatici, così come i serpenti, cioè quindi che ancora, nonostante magari arrivino, come nel caso appunto dei coccodrilli, che arrivino magari da generazioni, mi spiace dire questa cosa, in allevamento, quindi che vivono in cattività da generazioni, in realtà mantengono tutti i loro istinti primari e primordiali, per cui è una vera, diciamo, è una crudeltà assurda, inaccettabile. Dopodiché inoltre questi coccodrilli che vediamo vengono uccisi a circa 2-3 anni, per le industrie che vengono utilizzate, per l'industria della moda, a 2-3 anni di vita e dobbiamo considerare che in realtà un coccodrillo vive più o meno quanto un essere umano, un uomo, anche di più, 80-90 anni, anche loro tra l'altro leggevo che una volta che feci una nostra azione dimostrativa, sempre per la settimana della moda, anche loro vengono uccisi in una maniera orrenda, cioè assimilabile al serpente, a livello cervicale, devono tagliare, incidono, innanzitutto prima li stordiscono con un cappio che serve appunto a stordirli, quindi da cui passa dell'elettricità, perché naturalmente, voglio dire, i coccodrilli comunque, come ho detto, sono animali selvatici e non credo che, sarebbe già una lotta impari se fosse invece, come dire, uomo contro il coccodrillo. Poi vengono, una volta che sono storditi, vengono incisi sul collo con una lama e viene recisa la spina dorsale affinché appunto non riescano fondamentalmente a muoversi. Viene inserita un'altra lama nel loro, praticamente si entra nel cervello o con un cacciavite, insomma, per rovinare, per neutralizzare e per rovinare loro il cervello. Tutto questo mentre sono ancora coscienti. E soprattutto ci tengo a dire, anche come persona che comunque ha studiato queste materie, il fatto che vadano a danneggiare il sistema nervoso non implica il fatto che non sentano il dolore. Ecco, può succedere se va bene al coccodrillo, in questo caso, ma molto spesso non succede perché si tende a pensare allora non sentono più niente. Non è vero? Magari non sono in grado di muoversi, un po' come succede agli animali dei mattatoi. non sono in grado di muoversi, ma il dolore lo sentono e come. E al di là, diciamo, di questo del momento dell'uccisione che è sempre, diciamo, il momento clou e peggiore, comunque non dimentichiamoci gli anni vissuti, appunto, in cattività, in prigionia, in situazioni in cui, appunto, l'animale non dovrebbe esserci, non dovrebbe trovarsi. Tutto questo volevo, appunto, anche collegarmi al fatto che è talmente tutto, appunto, innaturale che è anche pericoloso dal punto di vista del, diciamo, del rischio della salute, salute pubblica e, appunto, degli umani. Perché è importante ricordare questa cosa perché laddove le persone non sono, non empatizzano a me, alcuni, come magari, appunto, con gli animali o possono provare indifferenza magari non la provano per se stessi, per loro stessi. Quindi, diciamo, c'è esperti, scienziati, esperti, sia delle Nazioni Unite che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ma anche altri scienziati hanno detto già da tempo che per come vengono tenuti, appunto, questi animali, diversi tipi di animali che abbiamo detto ma soprattutto gli animali esotici che la prossima pandemia potrebbe arrivare, appunto, dal settore della moda. Quindi, noi, appunto, ci teniamo sempre a, quando, diciamo, la nostra opera di informazione e divulgazione di apertura degli occhi e anche dei cuori nei confronti di vari pubblici, appunto, tra cui, diciamo, i responsabili di queste case di moda e delle varie istituzioni ecco, ci teniamo anche a ricordare questa cosa perché, diciamo, cioè, potenzialmente c'è un rischio reputazionale pazzesco e nessuno vorrebbe, diciamo, trovarsi in questa situazione ma soprattutto in una nuova pandemia. Sono molto simili le condizioni in cui vivono questi animali sono molto simili fondamentalmente visto che tutti abbiamo siamo rimasti inorriditi dalle immagini dei wet market voglio dire asiatici queste praticamente potete vedere dietro quello che succede sono praticamente simili paragonabili paragonabili esatto ci tengo a chiudere la puntata in attesa di comunque rivederci sicuramente per spiegare tante cose che tante persone in buona fede non sanno perché alcuni veramente non le sanno e alcuni fanno finta di non saperle purtroppo c'è la scusa che sono animali di allevamento non regge perché anche noi siamo gli animali più addomesticati al mondo eppure quando abbiamo facciamo un esempio la gioia di sdraiarci in costume su una spiaggia ci rendiamo conto lì salta fuori l'istinto e ci rendiamo conto di quanta costrizione che non è paragonabile alla vita del coccodrillo negli allevamenti siamo costretti a subire immaginiamoci un animale che magari è in cattività solo da due generazioni completamente selvatico quindi anche se non fosse ucciso che vita orribile indegna che gli facciamo fare le facciamo fare noi ecco questo volevo anche dire che il pubblico le persone come noi i cittadini sono attraverso fortunatamente i social media il web condividono sempre più queste informazioni e sono quelli fondamentalmente che hanno anche in mano il potere di cambiare le cose di chiedere e stanno chiedendo e possono anche plasmare attraverso i loro acquisti le loro scelte d'acquisto possono plasmare quello che anche le case di moda poi propongono quindi questo è molto importante assolutamente grazie Patrizia grazie per il tuo lavoro grazie a Pita e buona serata a tutti grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti